Nella seconda metà degli anni settanta sono stato tra i fondatori del gruppo armato Prima Linea. Noi di Prima Linea abbiamo fatto cose da pazzi. Eravamo convinti di aver ragione. Avevamo scambiato il tramonto per l'alba. Tutto bene in viaggio? Tutto tranquillo. Tu mi puoi ospitare a casa tua? Guarda che mi sono procurato. Un giorno che basta parlare, io sono pronto. Secondo me usare le pistole non fa bene a nessuno. Scherzavo. È un ferro vecchio, non spara nemmeno se la prendi a calci. Non mi piace niente a me questa cosa qua, ma proprio per niente. Ma a parte le riunioni ci rivediamo io e te. Non so tu che dici. Sei in arresto! Non c'è ancora il tempo a correre via. A correre come correvamo allora, che ci lasciavamo dietro i fascisti, i celerini che ci voleva spaccare la testa. Non c'è più nessuna organizzazione. Noi che siamo allora? In questo momento, in questo domenica del cazzo. Siamo qui solo per liberare Susanna. Andiamo. L'ha già fatto? L'ha già ammazzato qualcuno? Non cercheranno solo di restarci. Cercheranno di ammazzarci. Non cercheranno solo 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 di ammazzarci. Grazie a tutti.